La contrazione dei muscoli, organi tendinei di Golgi, grado di tensione dei tendini. Fusi neuromuscolari, e posizione delle articolazioni, propriocettori nelle capsule articolari. Gli assoni dei neuroni sensitivi di primo ordine contraggono sinapsi con i neuroni sensitivi di secondo ordine a livello delle corna posteriori del midollo spinale. Da qui, gli assoni che decussano formano il fascio spino cerebellare anteriore, ventrale che, decussando ulteriormente, terminano nella metà ipsi laterale del cervelletto, gli assoni del fascio spino cerebellare posteriore, dorsale non decussano a livello del midollo spinale e raggiungono direttamente la corteccia cerebellare. La risposta cerebellare permette il coordinamento fine dei movimenti corporei. Dal momento che i neuroni della via spino cerebellare non contraggono sinapsi a livello del talamo, e non vengono inviate alla corteccia cerebrale, le informazioni propriocettive di questa via vengono elaborate a livello inconscio.